Si manifesta in 15 ragazzi su 100, spesso alla fine dell'adolescenza può presentarsi con una sintomatologia piuttosto chiara come una sensazione di fastidio o di peso a livello dello scroto o essere completamente asintomatico. Parliamo di varicocele, una dilatazione delle vene del testicolo. Qua accanto a me il nostro urologo di salute uomo Andrea Salonia. Andrea Ciao Nico. Varicocele, bisogna parlarne perché è molto molto frequente e la diagnosi arriva ancora troppo tardi. Sì, arriva tardi per vari motivi. In primo luogo è una patologia praticamente congenita ed è caratterizzata come ben dicevi dalla dilatazione delle vene al di sopra del testicolo che di per sé poco farebbero se a questo non fosse associato prevalentemente al testicolo di sinistra per un problema di tipo anatomico una problematica di surriscaldamento del testicolo oltre a tutto un insieme di altri meccanismi patologici. Il risultato qual è? Che molto raramente soprattutto nel ragazzo giovane dà dolore inteso come dolore che noi chiamiamo in termini medichesi gravativo, cioè una sensazione di pesantezza. Molto più frequentemente si associa ad un'alterazione della qualità del liquido seminale. Gli spermatozoi sono frequentemente alterati per forma, talvolta vengono definiti a cerino o a fiammifero, sono alterati per motilità, sono alterati per caratteristiche, che vuol dire per le informazioni che sono capaci di portare in termini riproduttivi, cioè nella loro capacità di creare bimbi e talvolta meno frequentemente, sono anche alterati per numero. Quando si deve intervenire? Si deve intervenire in due condizioni sostanzialmente. Laddove si pensa, e lo specialista è bravo a capirlo, che possa essere causa o con causa di infertilità, e questo nel soggetto più adulto, in epoca peripuberale, cioè molto giovani, in epoca peri-adolescenziale, soprattutto perché la persistenza ai varicocele di sinistra è spesso causa di sofferenza del testicolo. Non è infrequente trovare dei testicoli di sinistra più piccoli rispetto al testicolo controlaterale proprio in presenza di varicocele. Quindi correggere, e la correzione è una correzione chirurgica, ha un significato protettivo in termini dimensionali del testicolo del ragazzo e protettivo in termini genitoriali futuri per il soggetto che cerca figli. Su Salute Uomo c'è un post proprio sull'autocontrollo. Assolutamente sì. Con l'autopalpazione al testicolo che può essere insegnata anche dai padri ai ragazzini, proprio come le mamme insegnano l'autopalpazione al seno. È estremamente importante, molto facile. Questo non vuol dire che si possa evitare la valutazione di uno specialista, senza l'idea di far pubblicità agli specialisti del settore, ma la valutazione di un varicocele merita una valutazione palpatoria che è sufficiente nel 50% dei casi, nel 100% è necessaria una valutazione ecografica perché ci dia nome e cognome delle caratteristiche di quel varicocele di sinistra particolare. Per qualsiasi dubbio o informazione scrivete a Salute Uomo. Grazie a tutti.